Il Brindisi fa su il derby contro il Nardò, le reti tutte siglate nella ripresa, portano il Brindisi al sorpasso in classifica al secondo posto e dimezzano il distacco dalla capolista con la Cavese che sarà prossimo avversario del Fanuzzi. Il Nardò tiene il campo per il primo tempo e per l'inizio della ripresa, poi dopo lo svantaggio il Brindisi riesce a stringere i denti e a portare a casa il risultato. Il Nardò scivola al terzo posto comunque continuando un campionato d'altissima classifica. Al dodicesimo minuto sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con D'Ambros che tenta un tiro che termina sul fondo. La gara vive di Folate al trentaduesimo il tentativo di D'Amaco, il tiro è debole e parato da Viola. Al trentottesimo minuto prima dell'intervallo scambio D'Ambros Ferreira, la sfera termina alta sulla traversa. Nel secondo tempo subito Nardò pericoloso, Ferreira dal limite, sfera che sfiora l'incrocio dei pali. Ancora Ferreira pericoloso al nono minuto con un colpo di testa che termina sul fondo. A fondo della ripresa invece il Brindisi a passare in vantaggio. Cross dalla destra di D'Amaco, mischia sulla linea di porta. Un ultimo tocco con la sfera che termina in rete, sblocca il risultato tre minuti più tardi. Potrebbe anche raddoppiare Santoro in ripartenza, si accentra. La sfera deviata viene salvata dalla difesa Neretina. Prima che termini in rete al ventitresimo ci prova D'Ambros in ripartenza. Il suo diagonale termina sul fondo al ventottesimo. Il Nardò resta anche in dieci per l'espulsione di Ferreira. Il Nardò però continua a crederci al trentacinquesimo. Deviazione di Haddai, rovesciata e parata di Viesmara. Tre minuti più tardi ci prova Gionai ed è ancora il portiere Brindisino a deviare e salvare il risultato. Poi al novantesimo la rete di Danna che chiude i conti della partita e concede la vittoria alla formazione Brindisina.